Ehi, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Nello scorso video abbiamo sbloccato lo Yo-Kai Watch Rango D e abbiamo scoperto la vera identità di Alphonse. Si è rivelato essere Shoot'n Doji. Per vostra informazione, Shoot'n Doji in italiano sarebbe Sobron, ma in realtà esiste anche un altro Shoot'n Doji e nel gioco si chiamano entrambi Shoot'n Doji. Vai a capire perché. Ad ogni modo, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo avanti. Sì, voglio volare con Pavolo Ucente fino alla cima della montagna. O meglio, alla cima, alla base, alla cima col cavolo che ci porta. Bene, ora vi porterò nel luogo della prova. Prima di partire, però, tu col kimono e anche tu là in fondo. Voi dovrete restare qui. E perché anche Trisalamandra? Beh, tu sei uno Yo-Kai, per cui non possiedo uno Yo-Kai Watch. E tu invece sei troppo pesante per me, non riuscirei a portarti sul dorso. Cosa? Che sciocchezze, non esiste una cosa del genere. Allora... Oh! Si sono sbagliati? Perché Trisalamandra è troppo pesante. E Bruno non ha lo Yo-Kai Watch, perché allora Whisper e Gibanyan che stanno a falli. Oppure Tri potrebbe anche semplicemente tornare medaglia. Non serve che sta qui con noi. Boh, è un po' strano. Anche io voglio impegnarmi al fianco dei miei amici. Ci ripensi, la prego. Il tuo cuore è puro, ragazzo. D'accordo, potrai venire anche tu. Dici sul serio, fantastico, grazie mille. Tuttavia, anche se ora siete al completo, non abbassate la guardia. Allora, ve lo richiedo di nuovo. Siete pronti per affrontare la prova? Certo, quello che ha detto Bruno vale per tutti. Giusto, ragazzi? Link, grazie, amico. Forza! I cos'è? Molto bene. Oh, dimenticavo. Il mister muscolo resta qua. Per te la solfa non cambia, purtroppo. Non c'è problema, signor uccello. Tri rimane volentieri qua, vero? Ah, d'accordo. Se lo dici tu, Summer. Ebbene, si va allora. Ok, siamo arrivati. Ah, sì, qua c'era un po' di platforming da foray. Bene, bene. Platform è il mio genere preferito, quindi non c'è problema. Ah, ma qui ci sono gli yokai anche più forti da affrontare. E se mi butto? Ah, non posso buttarmi? Voglio fare lifehands. Allora, vecchio meme che ormai non fa più ridere neanche per sbaglio. Se abbia mi fatto ridere poi, non lo so. Comunque, andiamo avanti. Sì. A volte si blocca. Sì, musica doppia. Più l'ho e più alto. Meno male che sono su console, quindi ci sai. È un problema dell'emulatore, ma è la console. Anima di rango E. Eh, quelli servono, sì, per aumentare anche la potenza delle armi. Allora, raccolto l'oggetto qui. Andiamo avanti. Che bello. Qua allenarsi potrebbe essere molto più fruttuoso di dove stavo prima. Mordi pianta. Ah, però sti yokai dei bolini, così. Oh, attenzione. Un box che ci dà. Tre bambola di fuga. Ma guarda, una in più. Guarda, non faceva male a sto punto. Facevi quattro e via. Ma si è rifiutato? Ma ti arrendi? Vieni qua. Madonna, scusa, polpo. Mo ti prendo, eh. Mannaggia. Te vieni qua. Niente, non riesco mai a prenderla, eh. Nonostante l'abbia puntata stavolta, niente da fare. E dire che ho premuto il tasto per prenderla, ma niente. Anima di rango D. E quella potrebbe tornare utile per davvero. Ma, scusi, signor Pavone. Ma lei non stava sotto prima. Come fa a essere così veloce? Me lo spieghi? Due sfera piccola. Intorno di qui è quello che ci faccio con le sfere piccole. Andiamo, va. Ottimo, prego, salite pure. Grazie, eh. Ottimo, prego, salite pure. Ottimo, prego. Non, no, non, 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 non. Bene, ora sappiamo perché ci sono più pavoni Almeno questo lo sappiamo Bruno! Wisnian! Vi sentite? Mi stiamo cercando da un po' ormai Dove saranno finiti? Oh no! E se Bruno e Wisnian fossero caduti dalla schiena del pavone? Beh, Wisnian si salverebbe perché è uno yokai Ma Bruno... Non credo proprio Sì, perché ci voleva un po' capirlo, no? Ah, che botta! Egnian vorrei mica lasciarmi qui da solo, spero! Alza, tira a mollito! Sì! Mi sento già meglio, Wisnian Puoi stare tranquillo adesso? Ehm, sai che ci siamo separati dal resto del gruppo, vero? Come? Stai scherzando, spero? Non fare così, amico! Troveremo sicuramente una soluzione Ah, sono un disastro, vero? Non ho noio kaywatch e in più... Sono solo un grosso ragazzino che sa solo lamentarsi E ora, come se non bastasse, sono anche bloccato qui Piantala di lamentarti, Bruno! Non c'è motivo di preoccuparsi Sì, forse hai ragione, ti chiedo scusa, Wisnian Bene, che cosa stiamo aspettando allora? Iniziamo a scalare il monte Bendetto amico, ti seguo! Bene, sono Bruno ora Diciamo che insomma non mi rappresenta meglio Andiamo avanti, va Naruto run, yeeeh! Ora parte silhouette in sottofondo Dai su Oh! Lui fa ha! Aspetta però... Aha! Lo sapevo io! Lo sapevo! Eh, niente Questa da ripendo e basta E purtroppo qui non ci sono i yokai Eh! Allo un po' a ricordare Ok Spera mini Ah! Lì c'è un rango C addirittura Wow Eh! Vi adattea quando ci tornerò qua Se poi me lo ricordo di tornarci Perché sicuramente non mi ricorderò Allora La situa qui è platformica Perché se tu salti Grazie Che prendiamo qui invece Oh! Perfetto! Con l'altra moneta che ho Posso fare delle belle multi Allo Multi insomma Per dire multi Bene Posso fare due slottate Allora 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 Qua si prosegue Qua invece no Si va verso il destino Medicine e patatine Quello che ti serve da pure patatine Ne sono le medicine Certo Ok Qua c'è un laghetto Nel caso vuoi mettere in ammollo Zampogne Ok Ma quello è Uno yokai watch Cosa ci fa in un posto come questo Ehi Che idea Perché non prevedi indossarlo Bruno Certo Bruno Tutto uno yokai watch Misterioso Fantastico Ora finalmente Anch'io No yokai watch Ben detto Ok È il momento di testarlo Proverò ad evocare Tei wiznian Eh? Bene Coraggio Tocca a noi Andiamo wiznian Beh Perché non succede niente E se Se non fossi all'altezza Di possedere uno yokai watch Bruno Sono patetico Vero? Forse dovrei arrendermi No Io sono il capo Di detective yokai Non posso arrendermi Bruno Finora Sono stato solo invidioso Invece di impegnarmi al massimo Per favore Yokai watch Presta nel tuo potere Bruno Svegliati Corri a cercare aiuto Amico Cosa? Mamma Quello è un cinghiale? Io sono cinghialtauro Il re di questo monte Cinghialtauro Porca miseria Bello Ascoltami Bruno Non è sicuro Qui fuggi Finché sei in tempo Ma che dici Wisnian Non potrei mai lasciarti solo Non preoccuparti per me Pensa a metterti in salvo Ascolta umano Se vuoi davvero tenerti L'orologio Dovrai combattere Combattere Hai detto Vuol dire che devo sconfiggere te? E va bene Se ripetassi Deluderai i miei amici Accetto la spiglia Cinghialtauro Oh che succede? Bene Sembra che l'orologio Sfunzioni Adesso ti salverò Wisnian E' questo il potere Della yokai watch Oh sembra che si sia arrabbiato Forza Bruno E' ora di lottare E' sto cavoli ora Questo mi sfascia Ma come che gli faccio io? Ammanate? Lotta di sumo? Bello però Preparati a lottare Ha! Ha! Let's go! Senti come pompa la cassa? Ha! Ammazzate! E' bello Proietti leoni Aspetta che lo provo Eh ha detto che lo provo Pezzè Ma gli fa la stella Ha 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 Ma è morto Wisnian Vabbè però Scusa Hang Wisnian Pure tu Ah ma si carica? I proietti leoni? Con lo spin Si Se potessi Ammazzate! Allora Non 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 E' Grazie per la visione! 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 Eh sì sì! Qua ci sono un bel po' di spide da affrontare amici! Mi piace! La situazione volge al meglio! Nonostante tutte quante le spide certo! Tu hai paura di me? Animale! Ti ho chiesto hai paura di me? No! Evidentemente! Ah! Scendiamo qui! Opla! No! Ok ok ok! Non mi ha saltato di qua! Non mi ha saltato! Mantello candido! Appena lavato! E poi ti prendiamo Yogurt! Allora! Siamo arrivati praticamente Al punto di interesse! L'episodio termina qui! Nel prossimo Affronteremo la prova finale Che c'è in cima al monte! E quando c'è fiammocchio C'è un boss dopo! Ovviamente! Che sempre così è stato! Allora in ogni modo! Io vi ringrazio per aver seguito il video! In descrizione trovate tutti quanti i link utili! E se ancora non siete iscritti al canale Magari iscrivetevi! E noi ci vediamo ovviamente Domani con un nuovo video! Bye bye! Ciao!